Bagioni Arredamenti arreda di Faenza. Arreda la tua idea di casa. Per te che ami la casa e la vuoi bella e funzionale, Bagioni Arredamenti dedica uno showroom su tre piani e l'esperienza di 50 anni per darti la soluzione su misura. A te che guardi i dettagli e cerchi la qualità, Bagioni Arredamenti offre grandi firme d'arredo ed è centro specializzato cucina e scavolini per darti la qualità che cerchi al prezzo migliore. Sempre. A te che chiedi professionalità e serietà, Bagioni Arredamenti è un punto di riferimento per assistenza continua nel tempo. C'è solo una strada per fare bella la tua casa, quella che porta a Rida da Bagioni Arredamenti.